Sto divento Vai Carlo Ed ecco questi mesi che vuole Sono nel suo gabinetto Cosa senti Carlo? Com'è? Emozione, dai aspetta Dai Carlo è emozionato Non riesce a farlo di più Molto difficile in questo momento per Casalegno. E' un fiscio con la bottiglia. Le emozioni in diretta? Carlo, vuoi dicci qualcosa? Oh yeah! Oh yeah! Elicente, è buon giorno! Un sacco di arina! Carlo della G20! Che schifo! Tappalo però! Dov'è il tappo? No, in questo. No, no, è giusto. Carlo, la sua varina, molto orgoglioso. Com'è andata Carlo? E' andata bene, è stato un po' emozionante. E' stato anche poi un po' a rischio di non ci spesse tutto ma... Alla fine ce l'abbiamo fatta. Grande Carlo!